Il parcheggio dell'ex campo sportivo Landolfi è stato liberato da venditori abusivi e disturbatori. Ad annunciarlo è un soddisfatto Adamo Coppola, sindaco della città di Agropoli, con un video sui social. Nel filmato Coppola ringrazia l'impegno delle ultime settimane dei vigili urbani agropolesi che hanno emanato vari ordini di allontanamento verso i venditori abusivi che operano al parcheggio e anche il comando agropolese dei carabinieri per l'ordine di arresto nei confronti di una delle minacciose presenze che infastidivano cittadini e turisti che sostavano la propria automobile a Landolfi. Inoltre il sindaco ha dichiarato che il lavoro dell'amministrazione per rendere la città tranquilla non si ferma qui e che l'impegno sarà massimo per non far accadere altre situazioni come quelle degli scorsi mesi. Oggi siamo al campo Landolfi. Il lavoro che abbiamo fatto in queste ultime settimane per liberarlo da tanti disturbatori ha avuto i primi successi. Voglio ringraziare i vigili urbani che con degli ordini di allontanamento fatti nelle scorse settimane hanno mandato via tanti venditori abusivi e voglio ringraziare i carabinieri perché con l'ordine di arresto di qualche giorno fa anche le minacciose presenze che davano fastidio qui ai nostri cittadini non ci sono più. Naturalmente il lavoro continuo saremo sempre decisi nel cercare di mantenere nella massima tranquillità questo luogo dove tante famiglie passano per lasciare la propria automobile. Voglio tranquillizzarvi che il nostro impegno sarà massimo per fare in modo che non si ripetano più episodi di questo tipo.